Milano rispetto all'anno scorso è una squadra molto competitiva, sicuramente vengono qui per far punti perché stanno disputando un'ottima stagione, hanno fatto degli acquisti molto azzeccati a partire da Bellazizzi che sta facendo a mio parere un super campionato, sta giocando molto bene, credo sia l'uomo più pericoloso e da tenere d'occhio di loro, ma sicuramente hanno tanti altri buoni elementi a partire dal nostro ex Klickenberg che sicuramente darà il massimo per giocare contro la sua ex squadra, piano, tanti cebuli e così dire, comunque è una squadra che gioca molto bene, gioca molto bene in battuta e noi dobbiamo essere bravi a contrastare le loro battute al miglior modo possibile, cercando di prendere pochi punti diretti e cercare di riprendere il bandolo della madassa del nostro gioco che ultimamente è venuto un po' meno. Stiamo lavorando in settimana sodo per cercare di riscattare la sconfitta contro Padova e che non ci rispecchia il nostro gioco, quindi siamo un po' dispiaciuti per questo e cercheremo di fare il massimo e portare a casa la partita.